profondirà proprio il tema. Psicologa nel senso non delle individuazioni della patologia ma psicologa del lavoro, o meglio faccio entrambi proprio perché forse questa è la cosa utile soprattutto in questo ambito cioè il lavoro con la persona e il lavoro con l'organizzazione perché poi l'azienda ma la famiglia è la prima forma di organizzazione. Ora vi dico un'immagine avete visto penso tutti l'immagine dell'inconscio e del conscio l'iceberg no? Il 90% è inconscio quella piccola parte è conscia e pensate che la parte che ci conduce nel nostro agire è quella del rimosso, dell'inconscio ma non solo nell'individuo ancora di più in un complesso di persone quindi nella famiglia. Per rimosso si intende tutte le memorie, le emozioni e il vissuto dell'intera famiglia che non è solo la famiglia attuale ma è una tradizione familiare. Io collaboro con il nostro lavoro che vedo anche i pazienti lì nella sede dell'associazione delle agenzie interinali e oggi stiamo facendo tante valutazioni su come cambia il lavoro. Il dramma di ciò che qui stiamo portando o di ciò che sta venendo particolarmente difficile il passaggio generazionale oggi è che il gap generazionale è molto grande, cioè fra padre e figlio c'è un gap di stile lavorativo che fino a qualche generazione fa si poteva diluire in circa 3-4 generazioni, un cambiamento fattivo dello stile di lavoro di un'azienda o anche nella costruzione. Oggi da padre a figlio semplicemente la costituzione, ogni 5 anni lo stile lavorativo cambia oggi, cioè giù si diceva che stiamo facendo una valutazione da 15 anni, del 40% dell'azienda eccetera ma noi da 15 anni non sappiamo che cosa succederà nel mondo del lavoro. Quando faccio le formazioni sulle soft skills a livello manageriale, la soft skills principale che andiamo a sviluppare è la luttività, cioè la capacità, penso che qui se sono imprenditori eccetera vedete che il lavoratore più utile è quello capace di adattarsi, che se c'è da fare più cose diversamente mi è più utile, piuttosto che quello iper specializzato. L'irrigidimento oggi è un ostacolo incredibile al cambiamento del lavoro, alla liquidità del lavoro, siamo arrivati alla società liquida di BAM, questo adesso io ho detto. Nel senso tuttavia che cosa accade? Se il lavoro è liquido e muta molto di più, chi porta lo scettro, l'imprenditore, si rigidisce maggiormente perché si sente più incapace di affrontarlo o meglio lo spaventa di più e allora va in protezione. Quando va in protezione il capo famiglia fa scelte di protezione, non rischiose ovviamente, il rischio io lo intraprendo quando ho una base abbastanza sicura. Il gap con il figlio che è tanto grande, che ad esempio vuole utilizzare i social per comunicare la sua azienda e il padre, non lo so, a me capita molto spesso che il figlio insiste moltissimo nell'investire nella comunicazione del prodotto perché oggi è tanto e il padre che dice ma tutta una cavorata perché quello che conta è la qualità eccetera, questo è una riga, perché noto di più a livello delle aziende. Come si mette insieme questo? Bisogna arrivare, questo adesso ve la spiego, a un concetto a me piace raccontarlo quando parlo con le famiglie, bisogna tornare ad un concetto un po' greco. Una famiglia è un cosmo, cosmo in greco significa complessità ma è un termine che ha anche una valenza estetica perché significa un'armonia che si mantiene, che riesce a resistere nella sua diversità. I latini hanno introdotto il termine universo che è verso l'uno, che ha già lì per sé un riduzionismo e a cui noi siamo portati perché se noi vediamo noi cerchiamo sempre di concentrare le cose, il passaggio, individuare una persona. Il lavoro che si deve fare oggi proprio per il cambiamento grande a cui stiamo assistendo è rieducarci a mantenere la complessità, cioè tutti possono essere utili nell'intervento, nel passaggio, tutti, perché tutti i ruoli, le mogli sono fondamentali, le mogli dei figli, no? Se voi immaginate soprattutto quando ci sono figli maschi che hanno mogli, no? Diverse che intervengono. Io parlo tantissimo con le mogli, con le, no? Che non sono direttamente artefici dentro l'azienda, ma lo sono la sera, dopo cena, quando si parla a casa. E lì noi siamo molto bravi, molto persuasivo, se i due fratelli possono andare d'accordo. Dopodì c'è tutto il contesto, quando si parlava del padre che non delega, no? Lì c'è un archetipo fondamentale, che è l'uccisione del padre, si chiama in psicanalisi, simbolicamente. Cioè la durezza del padre può essere molto utile al figlio, se riusciamo a inserirla in un contesto di conflittualità che non divide, che non disintegra, ma che integra, è fondamentale perché tanto più è tosto il padre, tanto più il figlio si deve esercitare a tenere botta e a superarlo, e tanto più avrà fatto questa fatica e tanto più sosterrà le altre conflittualità. Questo a livello simbolico significa riuscire a vincere il padre anche autoritario. Però qui c'è un altro componente sempre sociale che viene a intervenire, che non è più contemplata questa uccisione del padre oggi, perché oggi i figli, l'ereditarietà e la rigidità dei sistemi sociali si sta disintegrando, anche qui è tanto fluida, e quindi ci può essere un elemento della famiglia che non è il figlio, che ha interesse a proseguire, ma che non è il figlio. E quindi è quello, magari anche con l'attitudine, ma che fa difficoltà ad entrare, perché il figlio ha tutt'altro interessi, come spesso accai. Il lavoro più grande che si fa è cercare di mantenere la complessità, di integrare le parti, cioè di non ridurre la conflittualità. Io non sono l'imprenditore che litiga con il figlio perché non gli vuole passare l'azienda. Io sono il padre, l'imprenditore preoccupato. Io non sono il figlio il cui padre non si fida. Io sono un figlio che deve assumere una grande responsabilità, cioè rivedere i termini, questo è il lavoro che racconto un po' quello che vado a fare, è il lavoro che faccio io, rivedere le definizioni, perché già quando le rivediamo atteniamo il disagio. Questo è un passaggio che racconto spesso, soprattutto ai genitori, per dire la tradizione, uno si fa forza, l'imprenditore di quello che lui ha costruito, io ce l'ho fatta, quindi il mio metodo ha funzionato. Come dicevo prima, il nostro cervello è plastico, cioè è portato a mantenere le memorie che acquifisce, tanto più si è confermati. Quindi se io ho fatto una cosa ed ha funzionato, quella è giusta per me. Tuttavia il nostro sistema non è in sospensione, cioè è un bias il concetto di tradizione, perché noi non stiamo fermi, o regrediamo o avanziamo. Questa è una cosa che solitamente, quando dico ai padri un pochino, sì, perché effettivamente non è possibile reiterare un evento, tanto più oggi. Oggi è proprio impossibile, perché nella generazione successiva ha già cambiato tutto. Significa che se io tengo a mantenere, regredisco necessariamente. Se io riesco ad inserire, posso permettermi l'innovazione, che è di farsi rischiosa. È di farsi rischiosa, ma al margine di rischio, se io sono un imprenditore, mi tocco sempre l'orgoglio di un imprenditore, devo contemplarlo. Se io vado solo in remissione, sono un po' manipolativa, sorride. No, sono anche motivazionale, ovviamente, nel senso il mio scopo è far immaginare le persone tutti gli elementi, come appunto un cosmo. E per cosmologia non si intende solo l'universo, il mondo, terra, ma pensiamo al sistema solare. Sono una complessità, che si muove in armonia. con tante differenze. Ricorda trovare l'armonia. Come la si fa? Con? Conoscendosi. Che cosa mi disturba? In che cosa io sono forte? Come ho portato? Sapete, c'è una modalità, io faccio la psico-terapeuta. E si dice sempre che se noi dei nostri pazienti non desideriamo nulla, non li mettiamo sulla buona strada. Se noi dei nostri figli non desideriamo nulla, non li nutriamo. questo significa che se noi non diamo un input, noi genitori, a chi abbiamo davanti, come genitore ovviamente del figlio che deve arreditare la mia azienda, ma anche come genitore a prescindere, se io non gli do uno stimolo e un al desiderare, quindi anche a rischiare per ottenere quel desiderio, non lo eserci con la vita. Questo è un elemento fondamentale che soprattutto oggi nel lavoro, soprattutto in questa fase critica della realtà, del mondo. E rispiego sempre, crisi è un termine che viene da crineo, cioè significa separare. E qualcosa nasce solo se c'è un luogo vuoto. Quando io separo, cremo un vuoto. Ciò che rimane insieme non può modificarsi, non può migliorare. I cambiamenti evolutivi avvengono sempre nella diversità, nella diversificazione da ogni vita. Se non ci fosse stata la crisi, una crisi iniziale, non sarebbe stato il Big Bang, non sarebbe una parica. Perciò necessariamente ogni nuova nascita, ogni miglioramento deve nascere da una frattura, da una racerazione, in un certo senso. Che deve essere però integrata e mantenuta in una complessità, in un'armonia. È stata breve, perché insomma, a questo volevo fare un po' il risulto. Se avete domande, chiedete.